Ecco, mi è piaciuta molto quell'iniziativa che è stata quasi riconosciuta, che tutta la popolazione di Mango, cosa aveva fatto? Aveva sostenuto? Diciamo che i protagonisti di questo parco culturale all'aperto dedicato a Fenoglio, che è un parco interessante da diversi punti di vista, dopo magari possiamo anche spiegare perché, sono i punti di sosta e di veduta più belli di tutto il territorio, descritti da Fenoglio appunto nei suoi romanzi e raggiungibili con qualsiasi mezzo, a cavallo, a piedi, piuttosto che non in automobile, dove sul post ci sono le più belle vedute del nostro territorio e la gente può star lì su una panchina e leggere i testi di Fenoglio in italiano e in inglese. Quindi apertura massima anche a tutto il resto del mondo. Già allora eravamo globali noi, quindi dal locale al globale per noi è sempre stata una cosa importante già fin da allora e dicevo, questa iniziativa è stata grazie a tre protagonisti principali. Ripeto, a Raul Molinari che ne è stato l'ideatore, all'amministrazione comunale che ha fatto da braccio esecutivo, che allora era presieduta dal sottoscritto e per una delle poche volte che i cittadini di Mango sono stati veramente protagonisti, come dicevi tu, è molto importante perché i soldi naturalmente all'ora come oggi mancano, era già un periodo di vacche magre e quindi si è formato un comitato spontaneo locale dove alcuni cittadini di Mango hanno aderito, hanno messo dell'oro e hanno finanziato questa iniziativa che ha avuto poi il patrocinio della Presidenza della Repubblica perché è originalissima in quanto unico parco all'aperto che era stato creato in tutta la nazione dopo quello fenogliano e inaugurato poi qui nei locali dell'eloteca del nostro bellissimo Castello di Mango. Oltretutto abbiamo veramente due voci narranti, meravigliose. Allora Donato, un'idea forse stupida, facciamo dagli appennini alle langhe. Sì, dagli appennini alle langhe, questi percorsi letterari, la gente rimane a volte un po' perplessa, dice ma servono. Io ho provato in questi anni, per otto anni consecutivi, a accompagnare un centinaio di studenti delle classi ginnasiali del liceo Govone di Alba nei luoghi fenogliani. Gli insegnanti mi hanno confermato pochi mesi fa che a seguito di quella camminata nei luoghi fenogliani gli studenti hanno poi chiesto di leggere i racconti, le opere principali di Fenoglio e alcuni di questi studenti hanno poi scelto anche come argomento della loro tesina per l'esame di maturità la narrativa fenogliana. Quindi dal punto di vista formativo sicuramente serve, ma secondo me serve anche al turista. Serve al turista avvicinarsi ad un paese come Mango, come San Benedetto Belbo, dopo aver in qualche modo perlomeno buttato l'occhio sui racconti di Fenoglio, perché ci trova l'essenza antropologica di queste colline. Trova questa essenza nel paesaggio, nelle storie che si sono tramandate, nelle pagine di questi due grandi scrittori. Bene, Mango fa l'apposta, adesso ci dobbiamo... Mango fa l'apposta, ma poi non dimentichiamoci che è dello spirito profondo di Fenoglio e di Pavese che vengono fuori descrizione di queste colline, come per esempio che queste colline, questo è il sinei delle colline. Tre parole che per ora rappresentano quello che è il nostro spirito, quella che è la bellezza intrinseca, forte, culturale, gastronomica, paesaggistica di questo nostro bellissimo territorio.